Il processo di integrazione rappresenta ancora oggi uno dei temi più dibattuti nell'ambito sociopolitico nazionale. E mentre tra i tavoli di dissertazione si discute sulla legittimità, sull'appartenenza, sul diritto alla cittadinanza, alcuni uomini calcano guadi e strade polverose fino a baciare le cosse dell'estrema Europa. Questa mattina Grigento, atteso la mano con affido festivo, aggiunge un posto a tavola, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale, l'associazione culturale Acquarinto, in collaborazione con la Caritas Diocesana. L'iniziativa si snoda in maniera abbastanza semplice, facendo filtrare il processo di integrazione sociale all'interno delle case degli agrigentini. Ci spiegano tutto il presidente di Acquarinto, Donato Notonica, e l'assessore alle politiche sociali, Antonino Amato. Abbiamo ipotizzato un percorso che possa creare le condizioni affinché, al di là della solidarietà che viene espressa comunemente nei confronti di queste persone, ci sia la possibilità di condividere, attraverso la condivisione del pasto, quindi stare insieme, condividere alcune ore per uno scambio effettivo e un'integrazione effettiva tra mondi che sono assolutamente diversi. Parliamo di soggetti che, oltre ad essere migranti, hanno una condizione di migrazione forzosa, non parliamo di migrati economici, ma parliamo di richiedenti protezione internazionale. Questo significa che sono portatori di molteplici vulnerabilità. Non sono deboli, ma devono godere di un tessuto, che è il tessuto di accoglienza, che deve in tutti i modi cercare di regolarne e di avallarne l'integrazione. Dobbiamo veramente fare i complimenti all'associazione Acquarinto che si interessa di accoglienza di quelli che sono i migranti richiedenti asilo politico, perché abbiamo due flussi migratori di tipo diverso, quelli forzati che sono i migranti richiedenti asilo politico e un flusso migratore economico che è evidentemente quello che ha visto nella storia diverse popolazioni. È importante, dicevo, se tratta di un progetto o nel progetto, perché questi ragazzi che vengono accolti e che stanno nelle loro stanze, che hanno degli standard molto particolari, molto ordinari, adesso finalmente hanno la possibilità di essere accolte dalle famiglie degli agrigentini. Gli agrigentini dove nel domenico o comunque nelle festività possono accoglierli per alcune ore, quindi invitarli a tavola, e danno la possibilità a queste persone di respirare quell'aria familiare, quell'aria domestica che un pochino tutti noi più fortunati abbiamo avuto di, abbiamo così ordinariamente. Le storie e gli sguardi dei destinatari dell'iniziativa, titolari di protezione internazionale accolti a Valere sul progetto Sprar Taric, fanno da cornice alle parole di Domingus, ragazzo fuggito dalla Guinea-Bissau prima e dalla Libia poi, fino a giungere sulle coste agrigentine. Ho sentito bene l'Italia, i giorni che ho arrivato qua, grazie a Dio, e ho fatto qua un anno e tre mesi, è come quattro mesi, scusa, quattro mesi, con il comportamento italiano è buono, per me è buono, solo per ingraziare gli italiani, ingraziare a Dio, è prima cosa, ingraziare Dio, ingraziare gli italiani per tutti che fanno per noi, gli straniere, che sono rifugiati e che sono rifugiati da Libia, che fanno per noi, è grazie per Dio che posso benedicare gli italiani. Quali sono le difficoltà, le cose difficili che hai incontrato da quando sei in Italia? La partecipazione è aperta a chiunque, basta possedere una sedia in più e una porzione extra di lasagne col ragù, e chissà che tra le nostre tavole imbandite, così diverse e dalle loro qualcuno riesca finalmente a sentirsi a casa.